Ciao a tutti, questo è il look Ispirato un anime giapponese molto 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 famoso degli anni 90 Adesso stanno facendo la picca del manga in Giappone Questo è tutto italiano C'è anche Princess il collare Questa è la dietro Per questo video è tutto, seguite il tutorial Ci vediamo alla prossima Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video Utilizziamo il primer di Neve Cosmetics Lo utilizziamo solo Ecco, fare le pochette Fare le pochette È iniziato a fare caldo Ecco le pezzette È quasi finito Kaio Modirizzo Type f28 Figgio questo per... addio, sto partendo, ha iniziato a fare caldo quindi per il coso di neve, è un bel timpolvere, ha iniziato a fare caldo, viene asciutta la pelle, facciamo e fai la possettina. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Poi tiriamo il corino per i brujoletti, per gli iodoni arrivo. Non so se mi vede bene tanto che sia verde. Ho preso il 12, quello del corretto, quello del macello. Ho preso i brujoletti, qui, qui, facciamo perché può essere un po' lì di Pasqua. Il correttore va bene per i rossori. Se avete invece le cuppe rosa, ho fatto il correttore di giallo. Adesso questa è che mi sono grattata lo ecchio. Un po'. Ci mi ha fatto tornare male da solo. Ok. Vediamo. Utilizziamo il correttore pesca. Un po' di rosa. 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 Grazie. 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 Adesso andiamo ad utilizzare del Light Rose fondotinta, sempre in polvere, 8 grammi. Ancora. Vediamo la spugnetta. Se posso utilizzare questo. Ho anche ordinato le Beauty Blender, si aspettano che mi arrivano. Ho preso da Amazon, quindi... Dopo arrivo il 2 maggio, spero anche prima. Grazie. 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 Ora utilizziamo la palette, lo abbiamo messo al contrario, la intessissime, utilizziamo il blu, questo è chiaro, è un blu, e fucsia, nightlife, diva, 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 proviamo al partner numero 8, periodo di latte piccino piccino, guida sulla pò, amico, Bistracchio, sono fai giovane io. Andiamo a stendere sulla pappa e mamma mia, come sempre. Fulmine, basta, seduto, monnello. Grazie. 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 Mi è tornata. Utiliziamo la paletta Blush Missile Contouring Blush. Grazie. 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 Sì, mi sono andata Mi mostro di A presto. io metterò il rossetto e la siena no, l'avevo a rossar e il solito rossetto grazie io c'ho anche le rose qui Luca è finito e questo video è tutto eccoli là ciao e ciao questo video è tutto si fume dopo questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video ciao